Ben ritrovati in diretta con Just Today, regia Giulio Russo e Luigi Martino, in studio qui con noi Alessandro Iacubino, dottore in scienze tecniche psicologiche, educatore mindfulness, consulente e formatore. Benvenuto Alessandro. Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno a te Tony. Come stai, tutto bene? Tutto bene. Senti, stamattina abbiamo il piacere di averti qui con noi e ti ringraziamo per aver accettato il nostro invito perché vogliamo parlare con te di benessere della persona nella vita di tutti i giorni e nei contesti organizzativi e lo facciamo grazie alle tue competenze in neuroscienze. Che cosa sono le neuroscienze e come ti sei avvicinato a questo percorso? Beh Tony, le neuroscienze in parole povere studiano la dinamica e il funzionamento delle nostre attività cerebrali. Devi pensare che negli ultimi decenni c'è stato un grande sviluppo di queste professioni e di queste attività scientifiche che vanno di pari passo allo sviluppo delle tecnologie che ci hanno fortemente aiutato ad approfondire questi aspetti che fino a qualche decennio fa potevano sembrare solo delle ipotesi, legarsi a delle ipotesi. Oggi cominciamo ad avere delle vere e proprie evidenze scientifiche sul nostro funzionamento cerebrale. Sì, in effetti come dici tu è materia di cui si sta facendo sempre più parlare però ecco in maniera particolare nell'ultimo decennio ed è un argomento che sta entrando nei dibattiti televisivi, su libri, giornali, saggi e anche nelle aule. Tu sei un consulente ma anche un formatore e presti quindi attività didattica per trasferire ai tuoi allievi l'importanza di questi concetti. Come applichiamo il mondo delle neuroscienze nella vita quotidiana? Come dicevi tu Tony, le neuroscienze afferiscono a quella tipologia di scienze che si possono chiamare veramente trasversali quindi davvero occupano la nostra quotidianità. Devi pensare che le neuroscienze vengono applicate al marketing, alla vendita, se non altro anche al percorso clinico, alle attività che si possono svolgere per proferire il benessere alle persone. Io nello specifico mi occupo della prevenzione e mi occupo del benessere della persona all'interno di organizzazioni e all'interno di aziende. Tutti i giorni sono in relazione con persone e mi occupo appunto di curare le loro relazioni. All'interno di questo contesto una grande importanza la assumono proprio le neuroscienze. Come qui vediamo nell'immagine ci sono degli elettrodi, ad esempio questa è una seduta di neurofeedback, una delle attività che forse oggi è più in voga a livello di trattamento clinico nell'ambito delle neuroscienze. Molto bene, noi tra qualche istante parleremo anche di neuroscienze applicate alla meditazione e alla prior therapy, quindi è la terapia della preghiera, il benessere che la preghiera restituisce alla persona. Ci fermiamo solo un istante per dare la linea alla regia e ritorniamo subito insieme. Rieccoci tornati in diretta, Just Today, Padre Pio TV, in compagnia con noi c'è Alessandro Iacupino, dottore in scienze tecniche psicologiche, educatore mindfulness, quindi esperto di neuroscienze. Oggi con lui parliamo anche dell'importanza della preghiera. Non scopriamo oggi quale strumento importante sia in maniera particolare per noi credenti, ma attraverso gli strumenti di cui ci parlava prima Alessandro, oggi abbiamo anche evidenze scientifiche di come la preghiera sia un momento che appunto contribuisca al nostro benessere psicofisico. Alessandro? Certo Tony, allora devi pensare che i primi studi in ambito di prayer therapy risalgono nel 1967 ad opera di questo cardiologo di Harvard, il dottor Benson, che è stato il primo che ha cominciato ad approfondire questi aspetti psicofisiologici che poi vanno a determinare alcune condizioni di benessere legate alla preghiera e alla meditazione. Questi studi hanno prodotto circa 180 articoli scientifici a riguardo, quindi quello che ieri poteva sembrare solo essere fantascienza oggi è davvero comprovato. In poche parole che succede? Durante le attività di preghiera e di meditazione, perché qui parliamo di spiritualità, quindi non parliamo di preghiera in senso tale legata ad un solo tipo di cultura, durante queste attività cosa succede a livello cerebrale? Succede che si spengono completamente o quasi le aree parietali che sono determinate allo spazio, al dove siamo e si accendono le aree limbiche e la corteccia prefrontale. Nelle aree limbiche noi elaboriamo le emozioni, nella corteccia prefrontale elaboriamo degli stati cognitivi, è uno spazio del nostro cervello deputato alle attività di lavoro, quindi ci concentriamo sul sé. Questa concentrazione interiore ci porta a guardarci dentro ed a estranearci da quello che accade fuori. La magia succede, se vogliamo questo piccolo miracolo che già è dentro di noi, succede perché questa attività va a regolare delle funzioni parasimpatiche, quali possono essere il respiro, l'attività cardiaca, che già di per sé aiutano ad elevare la nostra carica immunitaria. Non solo, è stato evidenziato che ci sono anche delle mutazioni a livello genico. Quindi negli ultimi studi, nel 2013 e nel 2016, hanno affermato anche questa modificazione genetica all'interno del nostro organismo a livello psicofisico. Che cosa succede? Succede che si abbassano notevolmente i livelli di cortisolo. Il cortisolo è deputato a tutte quelle cose che noi chiamiamo stress, ansia, depressione, di cui oggi si fa un gran parlare. E vengono innalzate, ad esempio, la produzione di serotonina, che è un neurotrasmettitore fondamentale per la regolazione dell'umore. Non solo. E' stato fatto un esperimento scientifico, dove sono stati messi in studio 26 volontari provenienti da ogni tipo di cultura, che si definivano atei. Sono stati sottoposti ad 8 settimane di preghiera, 15-20 minuti al giorno, e si sono subito visti gli effetti positivi sulla produzione di radicali liberi e su tutta una serie di attività a livello biologico. Ad esempio, un potenziamento dei mitocondri, che sono le centraline della nostra energia. Quindi tutta una serie, possiamo dire, di benefici che vanno verso quella che noi chiamiamo auto-guarigione. Quel processo che è già interno a noi, che ci permette di aiutare, non sostituire chiaramente la cura farmacologica, ma di aiutare a raggiungere questi stati di benessere. Alessandro, io intanto ti faccio davvero i miei complimenti, perché si percepisce non solo la tua preparazione, ma anche la passione con la quale tratti di questi argomenti così interessanti. A questo proposito, se interpretiamo la preghiera come una medicina dell'anima, mi verrebbe da chiederti, secondo te, quante volte dobbiamo prenderla al giorno? Ma in realtà bastano pochi minuti al giorno. Degli step da 10-15 minuti al giorno possono essere già sufficienti a metterci in relazione con noi stessi. Quello che dobbiamo fare, in definitiva, è curare le relazioni, su tutte e tre i relazioni. La relazione che abbiamo con noi stessi, la relazione che abbiamo con gli altri, la relazione che abbiamo col mondo esterno. Quindi bastano 10-15 minuti di preghiera o meditazione al giorno per riuscire ad attivare questi percorsi di benessere che aiutano ad autoregolarci. Sono veramente contento di fare con te queste riflessioni stamattina perché in un mondo frenetico come quello in cui viviamo non è affatto scontato parlare dell'importanza della preghiera, della meditazione e soprattutto non è scontato riuscire a trovare il tempo per farlo. Per cui questo piccolo investimento di tempo, se vogliamo chiamarlo così, poi in realtà può produrre tanto benessere. Certo, e se non altro possiamo dire che religione e meditazione hanno un punto in comune, indipendentemente da quale sia la cultura di provenienza del soggetto, non possono fare altro che farci del bene. Grazie Alessandro per essere stato con noi stamattina. Noi invitiamo i nostri telespettatori e telespettatrici a raggiungerci anche per farci qualche domanda, se vogliono, perché abbiamo ancora qualche minuto. Intanto, come dicevamo, questa tua competenza tu la spendi anche in aula. Abbiamo visto qualche foto che ti vede impegnato tra ragazzi e ragazze. Ecco, come stiamo vedendo adesso in queste immagini, cosa succede in aula? Forse per la prima volta in un'aula abbiamo riprodotto un laboratorio di elettroencefalogramma legato agli stati meditativi. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto altro che eseguire un elettroencefalogramma sui soggetti, tutti i maggioreni si sono posti volontari, per analizzare quali erano gli stati di attivazione cerebrale con le varie onde prodotte. Abbiamo portato, abbiamo eseguito una meditazione guidata, che ho guidato io e qui vedete come siamo riusciti in pochissimi minuti, in real time, in diretta, a modificare la produzione di quelle onde cerebrali che si attivano durante gli stati meditativi che ci portano appunto a questi famosi stati di benessere e di rilassamento. Davvero tutto molto interessante, per cui ti ringrazio davvero di cuore per essere stato qui con noi stamattina a parlarci di neuroscienze, preghiera, meditazione e quindi mi auguro che in futuro ci possano essere altre occasioni per recuperare questi argomenti così interessanti. Grazie a tutti, intanto ti auguro buon proseguimento di giornata e quindi ti rinnovo l'invito a ritrovarci prossimamente. Grazie a voi e buona giornata a tutti. Linea alla regia, ci ritroviamo fra qualche istante.